Il coronamento è un sogno, cioè quello di avere la cittadinanza della città nella quale sono sempre vissuto e che ho sempre amato. Da oggi è cittadino onorario di Napoli, Carlo Alemi, presidente del Tribunale Napoletano, riceve in sala giunta l'attestato di appartenenza alla città per mano del sindaco Luigi De Magistris. Per rinsaldare e ribadire i sentimenti e i legami di affetto e di amicizia tra Napoli e il dottore Carlo Alemi, rendendo doveroso e sentito omaggio al suo attaccamento e amore per la nostra città, l'amministrazione comunale intende conferirgli la cittadinanza onoraria, delibera conferire per i motivi esposti in narrativa al dottore Carlo Alemi, presidente del Tribunale di Napoli, la cittadinanza onoraria, quale pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, profonda gratitudine e affetto della città di Napoli. Il sindaco Luigi De Magistris, Palazzo San Giacomo, 16 luglio 2013. Nato ad Addis Abeba, Carlo Alemi, 71 anni, dal 2006 presiede il Tribunale di Napoli. In precedenza aveva guidato i giudici di Santa Maria Capuavettere dopo una carriera iniziata nel 65 come vice pretore. A Napoli, città nella quale è stato anche pretore e giudice istruttore, ha condotto le inchieste più delicate, dal caso del rapimento dell'assessore democristiano Ciro Cirillo alla trattativa con la Camorra fino alla colonna napoletana delle Brigate Rosse. Nel 2012 rifiuta, per amore di Napoli, la presidenza del Tribunale di Roma, instancabile e l'impegno profuso quotidianamente nella lotta alla criminalità organizzata e per la difesa dei principi di legalità e giustizia. Incisiva anche l'opera di sensibilizzazione rivolta alle giovani generazioni per il rispetto dei valori fondanti della Costituzione. È una sorpresa che avevamo preparato qualche mese fa, penso sia giusto per quello che il presidente Alemi ha fatto da cittadino e da magistrato, per come si è impegnato a svolgere indagini delicatissime in momenti bui della nostra città e del nostro paese, penso al cosiddetto caso Cirillo, per il suo impegno a rimanere in città anche quando gli era stato proposto di fare il presidente del Tribunale di Roma, quindi della capitale della nostra nazione. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, alla presenza delle alte autorità civili, militari e religiose, l'amministrazione comunale e la città intera hanno scelto di ricambiare i sentimenti di stima e di affetto nei suoi confronti. Napoli ha bisogno di simboli che servono soprattutto ai giovani per rimanere nella nostra città oppure per andare via solo per scelta. Noi pensiamo che Napoli sia una grande città che regala delle emozioni che nessun'altra città sa donare, quindi oggi per me e per noi è una giornata importante.